Rinnovare i programmi, parole che suonano come bombe quelle del ministro della pubblica istruzione riguardo all'insegnamento della religione in Italia. E' ora di cambiare, dice Profumo, e lancia l'idea di un modo più aperto e aderente alla realtà multiculturale del nostro paese. Immediata la replica degli insegnanti di religione che dicono siamo già in prima linea. La lezione comunque tiene conto della religione cattolica che sta proprio alla base perché è il nostro insegnamento che dobbiamo svolgere, ma anche delle altre religioni e in seconda delle diverse confessioni cristiane. Nella scuola Cavour di Catania, una delle più multiculturali della città, si applicano già sistemi diversificati per gli alunni di altre fedi. Ma attenzione a non chiamarla semplicemente ora di religione perché in base al concordato del 29 l'insegnamento è di religione cattolica. Da più parti adesso la richiesta che si approfondiscano nei programmi storia e analisi delle diverse religioni. Noi già lo studio delle diverse religioni lo affrontiamo, fa parte del nostro programma, per cui è qualcosa che già noi facciamo. 1.500 circa gli insegnanti di ruolo in Sicilia, 380 solo a Catania e più di 20.000 in Italia. Agli accordi Stato-Chiesa si riferiscono pure alle norme per la nomina dei docenti, che possono ottenere il posto solo se ottengono una idoneità da parte della Curia, che tiene conto di tre requisiti, una preparazione culturale, che negli ultimi anni è diventata una laurea in scienze religiose o una in teologia, una preparazione didattica, che è l'abilitazione all'insegnamento, e una appartenenza ecclesiale con buona testimonianza di vita cristiana cattolica. Due terzi degli insegnanti sono laici, comunque pagati dallo Stato. In Sicilia più del 90% degli studenti si avvale dell'insegnamento che rimane facoltativo, ma è certo che le parole del ministro riaprono una partita che non si è mai chiusa definitivamente.